Nuovi ingressi nel fine settimana nelle parrocchie della Diocesi di Prato. Sabato Don Vincent Soli, 49 anni, nato in Burkina Faso, cancelliere della Diocesi, ha fatto il suo ingresso come parroco di Sant'Antonio a Mercatale e Sant'Ippolito di Vernio. Il sacerdote, che per un breve periodo in passato aveva già guidato la parrocchia di Sant'Ippolito, sostituisce Don Alessandro Bigagli, nuovo parroco della Regina Pacis a Santa Lucia. Io cercherò di essere uniti a tutti, di coinvolgere tutti. Sono venuto qui per servire, non per essere servito, dare la mia vita per il mio grece, l'unico grece. Sant'Ippolito e Mercatale è l'unico grece, non da combattere, non siamo concorrenti, ma combattiamo per la stessa cosa, la stessa edificazione della Chiesa di Dio, la famiglia di Dio che ha Sant'Ippolito e Mercatale. Domenica anche la comunità di Santa Maria Colonica ha accolto il suo nuovo parroco, è Don Robert Biacabomba, 56enne congolese naturalizzato francese, fino ad oggi vice parroco di San Pietro a Galciana. Il suo arrivo rappresenta una novità per la parrocchia, che è stata guidata per 50 anni dal 1971 da Don Romano Faldi. Il nuovo sacerdote fa parte dell'ordine monastico dei Premostratensi e a Santa Maria Colonica sarà presto affiancato da altri due confratelli, creando così una piccola comunità. La prima volta per questa parrocchia di conoscere un sacerdote di un'altra cultura. Secondo me è molto importante condividere questa esperienza con gli altri, per questo voglio incontrare tutte le persone, non soltanto quelle che vengono nella Chiesa, ma anche quelle che ci sono allontanati dalla Chiesa, per condividere questa esperienza che mi sembra molto importante per la Chiesa oggi. E' quello che ci chiede anche il Papa, andare verso gli altri. I riti di missione di Don Vincent Souli e di Don Robert Biacabomba sono stati presieduti dal Vescovo Giovanni Nerbini.